ciao ragazzi in questo nuovo video spiegherò come mettere la fly mode e la xray mode allora prima di tutto dovete scaricare questi due pacchetti fly mode e xray mode io adesso c'ho linux spiegherò come si fa con linux ma più o meno il procedimento è uguale cercando sull'app data.minecraft su windows e quindi andremo ad aprire prima la fly mode e poi andare su file su home per me che c'ha la 1304 di versione di punto o sennò diciamo il nome scritto e quindi su home e digitare con la tastiera ctrl più h ctrl più h e aprire punto minecraft bin e aprire con gestione archivi minecraft.jar ok quindi andremo a copiare questi tre file li andremo a mettere qua diciamo qua dov'è stare tutti quanti li trasportiamo qua o anche giungi file e non mettete la cartella intera prendetele singolarmente e trasportatele io l'ho già fatto quindi non li farò ah e mi raccomando prima cancellate la cartella metainf metatrattino inf scritto in grande e facciamo la stessa cosa con la x-ray mode questa qui si e ora andremo ad aprire minecraft sp j minecraft e non vi faccio aspettare vado direttamente al dunque ecco io adesso ho diciamo questa skin che diciamo mi piace dopo metterò un video pure su come si cambiano le skin adesso scusate se va se lag però è sempre colpa del 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 programma per registrare e adesso come vedete se io schiaccerò x e diciamo si vede tutte le cose importanti ehm oro diamanti carbone tutti i metalli ehm lava vabbè c'è tutte le cose interessanti le schiacciandolo si disattiverà le schiacciando x poi invece andando a schiacciare r si si questo fa parte sempre dalle x-ray vedremo tutti i mostri ehm diciamo tutti i mostri gli oggetti l'acqua non capisco proprio non capisco precisamente a che serve però schiacciandolo si disattiverà poi ehm poi ehm un'altra cosa che è molto molto importante secondo me ehm diciamo la luce adesso vi faccio vedere come si adesso qua se io scavo vabbè se io scavo se dentro diciamo un buco schiacciando l diciamo vedi come se fosse tutto giorno pure dentro un buco chiuso chiacciando l vedi come se fosse tutto giorno ma ehm niente poi per volare schiacciando F e schiacciando due volte la barra specialrice come modalità creativa si potrà volare e questo è tutto per il mio video spero che vi sia piaciuto e appresso metterò un video su come cambiare le skins e e niente è finito il video grazie grazie grazie